oggi video nella natura il mio habitat preferito con il mio mezzo preferito la bici in particolare siamo con una bici a pedalata assistita che abbiamo selezionato nel marasma delle proposte che arrivano dalla cina per diversi motivi innanzitutto è completamente legale in italia limitata a 25 km orari e con pedalata assistita non con l'acceleratore poi ha un ottimo rapporto qualità prezzo veramente straordinario di cui vi parlerò meglio tra poco arriva dalla cina sì ma in realtà viene spedita dall'europa e quindi vi arriva veramente in pochi giorni senza rischi nel trasporto e senza dover subire dei dazi doganali e poi perché ha dei componenti piuttosto conosciuti piuttosto noti e tradizionali su cui ogni meccanico saprà metterci le mani e anche voi volendo potrete fare una manutenzione senza fatica ed eventualmente anche fare degli upgrade bene parlamento lei si chiama go go best mg 26 è prodotta appunto dal sito go go best da cui potete andarla ad acquistare vi dicevo che arriva dal dall'europa in particolare dalla polonia arrivato questo esemplare nel giro di quattro giorni era a casa mia il primo montaggio è facilissimo perché la bici è già praticamente quasi tutta montata arriva in una scatola molto ben imballata quindi ben protetta ecco dovete giusto fissare il manubrio le ruote e poco altro in confezione avete tutto quello che vi serve comprese le chiavi questo portapacchi che vedete in realtà non è incluso in confezione l'ho montato io perché tra poco vi farò vedere anche come l'ho utilizzato in confezione però trovate dei parafanghi che potete fissare sulla ruota anteriore sulla ruota posteriore il faretto anteriore molto molto potente che è collegato direttamente alla batteria un faretto invece posteriore non collegato alla batteria ma con una batteria estraibile che dovete azionare manualmente lui invece potete controllarlo qui dal computerino montaggio quindi facilissimo ma diamo un occhio ai componenti partiamo proprio dal telaio che è in alluminio con delle finiture veramente magistrali mi ha stupito sotto questo punto di vista è comunque bello solido anche se chiaramente non è questa una bici adatta per utilizzi gravosi di mountain bike e potete immaginarlo insomma siete un pochino pratici anche dalle geometrie vedete questo angolo angolo sterzo particolarmente verticale invece l'angolo sella abbastanza coricato nel telaio c'è integrata la batteria che da 360 watt ora e questo motore che è una nanda m60 una casa cinese piuttosto nota e che comincia ad essere importata anche su biciclette vendute nel nostro mercato questa è la versione entry level dei loro motori e devo dire che fa veramente bene il lavoro è un motore con potenza nominale da 250 watt arriva a 70 newton metro di coppia proseguendo con i componenti abbiamo delle dei cerchi da 27 e mezzo con dei copertoni cst jack rabbit che io non ho mai sentito ma che effettivamente funzionano abbastanza bene poi comunque i copertoni sono uno di quei componenti che si andrà a consumare più velocemente quindi lo andrete a sostituire 27 e mezzo misura perfetta per una bici così perché la rende abbastanza leggera maneggevole tra l'altro non vi ho detto uno degli aspetti principali di questa bici che mi è piaciuto di più ovvero il peso siamo appena sopra i 20 kg 22 kg che è pochissimo per una bici elettrica pedalata assistita con motore centrale e con una batteria da 360 watt ora come vedete c'è una forcella ammortizzata con ammortizzatore a molla che ha anche la possibilità della regolazione del precarico e la possibilità del lockout completo e blocca effettivamente escursione da 110 cm abbiamo dei freni idraulici tectro che sono un po la copia degli shimano mt200 e questo è un bene perché innanzitutto loro funzionano comunque frenano senza nessun problema e devo dire che non ho sentito la necessità di fare un upgrade sono due pistoncini e hanno una manutenzione di base praticamente identica agli shimano questo è un bel vantaggio perché ogni ogni ciclista ogni meccanico della bici saprà metterci in mano poi abbiamo una trasmissione shimano altos a 9 velocità con mono corona entry level che però fa il suo è affidabile resistente esattamente quello che ci vuole la sella è comoda particolarmente morbida con anche il foro centrale anti prostatite si può abbassare fino in fondo e alzare vedete fino a questa misura io sono un 80 per me è perfetta viene dichiarata per persone alte da 160 a 190 cm secondo me 190 un po troppo 160 invece va benissimo perché l'ha usata mia moglie che ha appunto 160 e si è trovata piuttosto bene poi c'è questo computerino che è monocromatico però si vede bene anche sotto il sole è resistente anche agli spruzzi d'acqua e vi mostra tutte le informazioni che possono esservi utili la velocità la distanza le calorie che state bruciando il livello di assistenza che avete impostato la carica residua ora saliamo in sella e vi racconto andando un po come l'esperienza d'uso con questa bici prima regola per una buona bici pedalata assistita è quella di funzionare bene quando non c'è l'aiutino e devo dire che questa è una bici che mi ha convinto pienamente sotto questo punto di vista come vedete adesso sono in assist zero e vi assicuro che è quasi come avere una bici normalissima certo è leggermente più pesante ma si riesce a pedalare davvero senza nessun problema anche qua su questa strada bianca davvero sotto questo punto di vista è ottima parliamo invece del motore questo ananda m60 che ha una bella coppia cioè ha un bel tiro se andiamo ad impostare l'assist a 5 come vedete in questo momento veramente lui vi spinge fino ai 25 chilometri orari in un attimo e vedete potete andare anche oltre mettendoci giusto un filo di pedalata muscolare ecco non è un motore che entra in maniera super naturale come potrebbe essere un bosch cx per esempio però è anche normale insomma siamo su un livello di costo totalmente differente è un motore che però vi permette veramente di fare tutto in maniera super sicura la pedalata vi ripeto non è completamente naturale ma ci si avvicina non è voluto nella precisione come i modelli più costosi però ha tutta veramente la potenza che serve già con assist 1 2 se andate in pianura praticamente non farete fatica e poi è bello perché potete metterci anche del vostro ecco riesce a regolarsi bene tra la spinta che date voi e la spinta che deve mettere lui quindi davvero promosso poi tra poco vado anche su una bella salitella per farvi vedere che riesce comunque a portarvi su e a proposito di potenza ecco vi svelo perché ho montato il portapacchi proprio perché io questa bici l'ho usata per portare il mio bimbo e quindi contate che anche aggiungendo un peso di circa 16 kg più il seggiolino più il portapacchi sommato al peso dell'adulto insomma questa bici veramente non ha fatto una piega si è dimostrata davvero davvero efficace in questo in questo frangente ho dovuto fare un piccolo accrocchio per montare il portapacchi però alla fine davvero basta un minimo di manualità e si riesce si riesce a mettere poi perché non avevo voglia di acquistare un adattatore altrimenti si può acquistare anche un adattatore per agganciare il portapacchi al tubo sella perché invece sul telaio ci sono già tutti i fori possibili immaginabili che lo rendono compatibile praticamente con tutti i tipi di portapacchi bene i componenti questi freni frenano la forcella adesso la vado a sbloccare e in questa in questa strada bianca è particolarmente buona chiaramente una forcella molla sensibile ma non molto sostenuta quindi se siete molto pesanti probabilmente la sentirete affondare un po più del dovuto però è comunque una forcella che per utilizzo in città o strade bianche ecco va benissimo assolutamente poi la cosa buona secondo me e ve lo dice uno che è abituato andare in bici che insomma è abbastanza pretenzioso sulla qualità dei componenti e che qua c'è un buon bilanciamento non ci sono dei componenti di gamma alta chiaramente siamo su tutti i componenti entry level con tutti i loro limiti però il cambio fa quello che deve è uno shimano che si può regolare veramente in un secondo trovate tantissimi tutorial anche online perché chi vi aiutano a capire come si fa come si regola i freni come vi dicevo hanno una manutenzione molto semplice anche spurgarli facile le pastiglie ricambi si trovano senza nessun problema e questo è importante perché molto spesso sulle sulle bici elettriche il problema poi è quello lì cioè componenti troppo esotici che poi si fa fatica a reperire o a sostituire o a riparare ok un po di off road e qua siamo un po sul terreno limite sia per il telaio sia per il motore qua sono su una bella salita e comunque se metto l'assistenza a 12 lo sento tutto il peso della bici però ecco basta avere un po di calma e anche su una salita di questo tipo si sale chiaramente l'autonomia scende molto molto velocemente perché stiamo portando al limite delle sue possibilità il motore non è una mountain bike però è una bici che le occasioni eventualmente potete sfruttare anche in queste salite in questo terreno ecco qua invece i limiti si sentono tutti in discesa non è una bici per andare forte sullo sterrato non mi dà per niente sicurezza tra l'altro non so se voi lo sentite ma è silenziosissimo in salita cioè quando il motore è sotto sforzo adesso sono a livello 5 di assistenza quindi al massimo ma faccio fatica a percepire il rumore del motore veramente buona questa cosa parliamo di prezzi 1699 euro di listino in realtà è sempre quasi sempre in offerta a 1299 euro e se usate questo codice sconto che vi lascio qua sotto e lo trovate anche in descrizione potete avere ancora un 5 per cento di sconto e quindi alla fine con 1206 euro ve la portate a casa spedizione gratuita secondo me è un rapporto qualità prezzo straordinario per una bici che avete visto è davvero tutto fare potete utilizzarla in città potete utilizzarla fuori città per fare anche un po' di gravel un po' di sterrato potete utilizzarla per trasportare dei bambini perché il motore ha la giusta potenza insomma a me è piaciuta una bici che vi consiglio sia da amante della tecnologia sia da amante della bici fatemi sapere però voi che cosa ne pensate se vi è piaciuto questo video come sempre lasciate un bel like iscrivetevi al nostro canale io sono Matteo noi ci vediamo al prossimo video ciao